Si inaugura questa sera nella chiesa del Carmine di Taranto la terza edizione della mostra Faces Passionis, quest'anno dedicata alle lacrime di Maria. Si inaugura questa sera, mercoledì 12 febbraio, la terza edizione della mostra Faces Passionis, i volti della passione, nella chiesa del Carmine di Taranto. L'edizione di quest'anno sarà dedicata alle lacrime mariane. Saranno esposti, infatti, dieci simulacri della Madonna Adolorata, provenienti da altrettante città della Puglia. Grazie alla collaborazione con confraternite, parrocchie e associazioni religiose. La serata inaugurale avrà inizio alle ore 18 nel foyer del Teatro Comunale Fusco di Taranto, a cui seguirà alle ore 18 e 30 l'inaugurazione della mostra stessa nella chiesa del Carmine. La mostra quest'anno è incentrata sui volti della Adolorata e quindi del Dolore di Maria. Dieci comunità che si trasferiscono dalle loro serie di appartenenza nella chiesa del Carmine a Taranto, e che virtualmente si ritrovano in questi giorni per condividere tutti insieme la devozione a Maria, che rappresenta sicuramente un punto di riferimento per tutta la cristianità e per tutti coloro che sono legati ai riti della Settimana Santa. Queste le parole del priore dell'arci confraternita del Carmine, Antonello Papalia, che continua L'Adolorata, nei riti della Settimana Santa, rappresenta un momento di forte emozione, in quanto ognuno di noi vive un rapporto speciale con quella che viene identificata come la mamma di tutti. All'inaugurazione saranno presenti anche Monsignor Filippo Santoro, arcivesco a voo di Taranto, e Rinaldo Melucci, sindaco della città. All'inaugurazione saranno presenti anche Monsignor Filippo Santoro,